Da Montesanto sia dalla Municipalità che dai commercianti dopo la tragedia dell'altro giorno arriva richiesta di maggiore sicurezza, telecamere, forze dell'ordine? Le forze dell'ordine dovrebbe chiederle al Ministro dell'Interno Salvini perché è venuto due volte a Napoli, ha annunciato più forze dell'ordine e allo Stato non si sono viste. Invece le telecamere se ne stanno mettendo davvero tante, un po' in quasi tutti i luoghi della città, quindi su quello c'è un'attività davvero significativa. Adesso noi contiamo di chiudere per quello che riguarda il Comune entro il 31 dicembre l'assunzione di 96 poliziotti municipali in modo che dal gennaio possano rinforzare i presidi sulla città.